In occasione dell'ottava edizione di Festa di Scienza e Filosofia, Virtute e Canoscenza di Foligno, è stata realizzata la mostra didattica interattiva La Chimica, Storia, Scienza e Società. Il progetto, realizzato grazie ai finanziamenti ricevuti dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, dal Comune di Foligno e dal Laboratorio di Scienze Sperimentali e sponsorizzato dalla società Novamont S.p.A., è unico nel suo genere, in quanto è stata realizzata una tavola periodica degli elementi rappresentata in modo totalmente innovativo sotto forma di struttura tridimensionale collegata ad elementi interattivi. Nelle aule scolastiche e nei laboratori è generalmente rappresentata sotto forma di poster affisso alle pareti. La nuova tavola periodica degli elementi, attualmente installata all'interno del Laboratorio di Chimica del Laboratorio di Scienze Sperimentali di Foligno, è costituita da una teca di dimensioni 3 metri per 2 metri che ospita campioni di quasi tutti gli elementi chimici conosciuti, collocati in celle in base alla loro posizione, ad eccezione degli elementi radioattivi e di quelli non rappresentabili fisicamente. Ogni cella è collegata, tramite un dispositivo interattivo digitale, ad un dispositivo sul quale è possibile selezionare un elemento e attivare l'illuminazione della corrispondente cella nella teca in modo da mostrare l'elemento contenuto. L'utilizzo del dispositivo attiva anche un monitor e una teca logarfica. Nel monitor è possibile visualizzare informazioni relative all'elemento selezionato, in particolare le sue caratteristiche chimico-fisiche, la storia della sua scoperta e le modalità di utilizzo. Le informazioni visualizzabili sul monitor saranno ulteriormente aggiornate in modo da poter essere adattabili al grado scolastico degli studenti che ne faranno uso. L'attivazione della teca olografica permette la visualizzazione dell'elemento chimico riprodotto, materializzando in immagine il campione presente nella cella illuminata. Molti degli elementi contenuti nelle celle sono stati realizzati tramite stampa 3D grazie al lavoro degli studenti delle scuole secondarie coinvolti nei laboratori di progettazione. Partendo dall'elemento chimico base, sono stati riprodotti nella loro forma di utilizzo comune. Il dispositivo con il quale è possibile selezionare gli elementi chimici utilizza la tecnologia Touchpad, che lo rende versatile e di facile utilizzo da parte degli studenti e dei docenti che lo utilizzeranno. Grazie a tutti.